I consiglieri regionali dell'Emilia-Romagna si sono decurtati del 10% tutte le indennità già dal 1 gennaio 2011. Lo hanno fatto approvando in aula all'unanimità una proposta di legge della maggioranza di centrosinistra, sottoscritta anche da PDL, Lega Nord e Udc. Unica voce critica, ma con voto positivo, quale segnale di incoraggiamento, quella dei 5 consiglieri 5 Stelle di Beppe Grillo, che hanno messo sotto accusa i propri colleghi, perché la pur prevista abrogazione del vitalizio, sorta di pensione alimentata da un meccanismo annuale deleterio per le casse regionali, scatterà solo a partire dalla prossima legislatura, 2015-2020, e perché la decurtazione per tutte le indennità di carica e di funzione l'avrebbero voluta al 50% e non al 10%, incassando del tutto l'indennità di fine mandato, qui solo diminuita come le altre. In ogni modo, il test approvato ha anche l'effetto di rigidire rimborsi di trasporto, con la verifica delle presenze al lavoro dei consiglieri regionali. L'Emilia Romagna, ha commentato il capogruppo del PD, Marco Montanari, primo firmatario della legge, è la prima regione in Italia a prendere questa decisione, che arriva dopo il taglio del 10% agli assessori regionali, voluto dal presidente della regione Vascherrani, che, presente in aula, ha applaudito al momento dell'approvazione. Una scelta storica l'ha definita il segretario regionale del PD, Stefano Bonaccini, riferendosi in particolare all'abolizione dei vitalizi. Il testo era in preparazione da oltre sei mesi, ma, una volta presentato, è stato licenziato in sole due settimane.